giungeranno a fanno da diversi paesi d'europa i partecipanti al torneo di tennis riservato ai preti e ai vescovi che si svolgerà nei campi del circolo tennis della trave giungeranno dalla polonia dalla slovacchia dalla ceca dalla romania chi in aereo chi in macchina per partecipare ad un'iniziativa che don francesco pierpaoli parroco del vallato e vicario pastorale della diocesi ha organizzato unica in italia a livello internazionale il torneo che ha ricevuto il patrocinio del dicastero della cultura e dell'educazione del vaticano retto dal cardinale de mendoza si svolgerà dall 8 al 12 aprile con 31 giocatori divisi in tre tabelloni per giocatori fino a 58 anni per giocatori da 58 a 70 anni per giocatori ultra settantenni l'organizzazione logistica sarà fornito dal circolo tennis presieduto da renato principe innanzitutto credo che il titolo proprio del torneo da un po la dimensione dell'unità tra i preti i cristiani e il tennis vince chi serve effettivamente lo sport è sempre qualcosa che ci mette a confronto con noi stessi con il nostro superare noi stessi ma anche con la lealtà con l'onestà eccetera quindi nel tennis in particolare questo è il servizio cioè vince chi serve effettivamente è avvantaggiato anche se bisogna strapparlo il servizio all'avversario per poter vincere mentre invece nella vita di un prete il servizio e nella vita di un cristiano vince sempre e questo è importante quindi ecco è un torneo che poi avrà anche il doppio e nel doppio in particolare la somma dei due diciamo dei due tennisti non dovrà superare i cento anni anche per fare in modo che ci siano equilibri e poi c'è anche un torneo di consolazione per coloro che sono stati eliminati il primo turno e di tutto questo ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci ha offerto le coppe e le medaglie per tutti quattro giornate di amicizia di benessere ma anche che veicolano un forte messaggio di pace necessario lo sport diventa è al centro un po della vita di tutti noi è di una comunità educante che in questo caso educa e accoglie anche tutte le persone visto e considerato che questo torneo riguarda più comunità che si mettono insieme a disposizione sicuramente come città non potevamo non favorirla visto che siamo una città accogliente ed inclusiva alla luce anche di una grande disponibilità delle società sportive che si applicano appunto per far sì che queste cose accadano in questo caso ringrazio il circolo tennis che non solo si è messo a disposizione nello spazio quindi nel mettere diciamo le proprie persone e i propri luoghi in queste quattro giornate ma anche perché li accoglierà in tutto e per tutto in tutto questo che in tutto quello che sarà un momento di ristorazione e quindi grazie davvero al mondo dello sport che in questo momento dimostra davvero una grande solidarietà che in questo momento